Rian Gosling Rian Gosling, ecco l'esperienza di mia figlia Amada a New York Rian Gosling ha dato prova più volte di non essere solo un sex symbol ma anche un ottimo padre e una persona con un grande senso dell'umorismo Rian ha raccontato della prima volta che lui e sua moglie Eva Mendes hanno portato la piccola di casa a visitare la grande mela però le cose non sono andate come previsto, l'attore ha scelto il momento meno adatto per indicare alla dolce Amada la bellezza della city, l'ho portata alla finestra e le ho detto vedi tesoro, questa è New York, benvenuta Un attimo dopo due macchine si sono scontrate, c'era fumo dappertutto e i due conducenti sono scesi dalle auto Non voglio ripetere qui i gesti che hanno fatto con le mani. Le ho coperto gli occhi e siamo scappati via dalla finestra. Ha imparato come fare il dito medio. Questo è molto new yorkese E sì, come primo impatto con una nuova città non è proprio il massimo e non ci stupiremmo se la piccola, che ora ha solo un anno e mezzo, da grande decidesse di stare alla larga dalla grande mela Due genitori molto riservati. Rian Gosling e Eva Mendes vivono con molta discrezione la loro vita privata, soprattutto da quando sono genitori. La coppia ha due figlie, Esmeralda Amada, di tre anni e Amada Lee, di un anno e mezzo Sono rare le occasioni in cui la famiglia viene pizzicata dai fotografi e ancora più rare quelle in cui Rian ed Eva parlano delle loro figlie Di recente, però, la Mendes ha parlato del tipo di educazione che stanno adottando per le bambine Innanzitutto, essendo figlie di un americano e di una cubana, è giusto che abbiano fin da piccole l'imprinting di entrambe le culture, sia quella paterna che quella materna, a partire dalla lingua La più grande è già perfettamente bilingue e questo riempie di orgoglio mamma Eva, che è molto legata alle proprie radici L'attrice di recente si è lanciata anche nel mondo della moda, proponendo una collezione esclusiva per il brand New York e Co La particolarità dei capi disegnati dalla Mendes è che arrivano fino alla taglia XXXL, ogni capo può essere indossato da una taglia 42 ma anche da una 56 Per Eva è importante soddisfare le esigenze di tutte le donne, anche quelle che non rientrano nei canoni di bellezza standard Un lutto indimenticabile per Rian. Qualche giorno fa, Rian Gosling ha raccontato di quando ha dovuto dire addio al suo cane George, suo fedele compagno di vita per 17 anni Il quadrupede è scomparso quasi un anno fa ma l'attore non si è ancora ripreso da quel dolore e non sa se riuscirà a prendere un altro animale domestico Il quadrupede è scomparso quasi un anno fa ma l'attore non si è ancora ripreso da un signore Il quadrupede è scomparso quasi un anno fa ma l'attore dei controlli Il quadrupede è buono Grazie.